Musica Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella Città e quindi entriamo subito nel pieno della vita nella nostra diocesi perché domenica 26 settembre sarà la festa, è la festa dell'apertura degli oratori e quindi animatori, educatori, catechisti ricevono il mandato Scopriamo insieme allora tutto di questo nuovo anno della vita oratoriana Vediamo Siamo nel momento della festa dell'apertura dell'oratorio come sempre anche il messaggio dell'arcivesco giunge ai ragazzi, agli educatori, agli animatori Qual è il filo rosso e il concetto forte di questo messaggio? Anche quest'anno l'arcivesco ha voluto raggiungere i nostri oratori con il suo messaggio proprio per la festa di apertura Il messaggio prende il titolo dalla proposta annuale della FOM Anche tu così Evidentemente l'arcivesco sottolinea con grande forza la figura di San Carlo Borromeo che ha riformato la nostra chiesa in particolare per quanto riguarda l'azione educativa attraverso l'intuizione straordinaria delle scuole per la dottrina cristiana che potremmo dire sono l'inizio, l'embrione di quello che poi sarebbero diventati i nostri oratori quindi anzitutto lo sguardo alla figura di San Carlo che ha avuto una carità pastorale, che ha saputo educare e poi nello sguardo è certamente all'icona del buon samaritano che si riferisce sempre a San Carlo, grande buon samaritano e prima ancora evidentemente a Gesù, il vero buon samaritano e questa icona riprende la strada che va da Gerusalemme a Gerico e il buon samaritano che porta l'uomo in una locanda questa locanda ospitale come dice l'arcivesco sono proprio i nostri oratori che vorrebbero prendersi cura della fede dei più piccoli e aiutarli a diventare grandi Locanda ospitale, quali i numeri di questa locanda grande come tutta la nostra diocese? È davvero una grande locanda, anzi potremmo dire così che sono tante piccole o meno piccole grandi locande i nostri oratori più di miglioratori, con volti anche molto diversi, con caratteristiche diverse in luoghi molto diversi che esprimono tutta la ricchezza della nostra chiesa quest'anno il tema è anche quello della santità, un po' più in generale e vorremmo anche che si ricordasse la storia di santità anche molto spiccia, molto semplice legata ai secoli di vita dei nostri oratori una grande santità legata a tante persone che hanno servito in modo diverso ma sempre a partire dal Vangelo nei nostri oratori Quanti sono i ragazzi che frequenteranno questo oratorio lungo tutto l'anno pastorale e quanti gli animatori? I numeri sono numeri davvero importanti, parliamo di centinaia di migliaia di ragazzi e di decine di migliaia di responsabili animatori, educatori, allenatori, genitori certamente questi numeri dicono la ricchezza e la grande storia educativa dei nostri oratori e permettono anche di vedere con fiducia il futuro sapendo che molto è stato fatto molto si sta facendo e certamente tanto si continuerà a fare Tantissimi dunque i catechisti impegnati nell'oratorio allora adesso per noi una segnalazione proprio del servizio per la catechesi perché fino al 30 settembre in 15 sedi delle 7 zone pastorali della diocesi continua a svolgersi la 4 giorni catechisti 2010 il titolo Rinascere dall'alto, tutti gli approfondimenti come sempre su www.chiesadimilano.it tra ciò che il cardinale chiede gli addempimenti per questo anno pastorale appena iniziato vi è il fondo di solidarietà famiglia lavoro e allora noi vi vogliamo offrire una breve riflessione e le parole stesse dell'arcivescovo il cardinale Tettamanzi lo considera un dovere e così lo inserisce tra gli addempimenti che chiede alle parrocchie continuate, continuiamo a sostenere il fondo di solidarietà famiglia lavoro lo scrive nel testo in cammino con San Carlo nella terza concretissima scheda sulle linee operative del percorso pastorale ricordando in tale contesto i 25 anni del convegno farsi prossimo a testimonianza dell'importanza che l'arcivescovo attribuisce all'iniziativa da lui stesso lanciata nella notte di Natale del 2008 e che, e anche questo è un annuncio, proseguirà per tutto il 2011 provandoci di fonte a una situazione che è ancora critica ecco, decido, decido, decidiamo, decidiamo insieme di prolungare ancora un anno questo fondo raccolti oggi un totale di circa 8.800.000 euro 100.000 in un periodo non facile come l'agosto con oltre 4.000 privati e 1.003 parrocchie coinvolte queste ultime per un insieme di 1.549.000 euro di offerte l'aiuto è stato finora portato a 4.000 famiglie con papà e mamme disoccupati o in cassa integrazione ma ormai più di 8 milioni sono stati distribuiti e allora il richiamo è chiaro e tuttavia, al di là delle cifre, è anche la ragione profonda del fondo che sta rivelandosi forza trainante se associazioni, enti, privati, parrocchi, appunto hanno risposto finora all'appello del cardinale si può però e si deve andare oltre nella logica di quel federalismo solidale che è lo slogan attuale della raccolta e che indica in pieno il senso dell'iniziativa nessuna sostituzione rispetto all'istituzione e agli ammortizzatori sociali dedicati ma sussidiarietà, gioco di squadra generosità utile e chiara nei suoi fini stili di vita sobri, solidali trasparente nei risultati macchina che funziona a costo zero con oltre 400 volontari impegnati negli sportelli Caritas e delle Acli e una mobilitazione capillare sul territorio solo per portare un esempio a conclusione la settimana scorsa della visita pastorale del canale a Luino al cardinale sono stati consegnati dai fedeli 10.000 euro prendere la crisi come qualcosa di provvidenziale significa ragionare se lo stile di vita che noi personalmente, familiarmente, comunitariamente conduciamo è uno stile di vita che riesce a prendere la provvidenzialità di questa crisi e si prepara non soltanto a risolvere questa crisi ma anche le future crisi e allora questo stile di vita, l'ho detto è lo stile della sobrietà abbiamo ascoltato e visto fin qui il cardinale ebbene adesso vi vogliamo segnalare ben tre appuntamenti che riguardano proprio l'arcivescovo e si svolgono nella nostra cattedrale perché sabato 2 ottobre alle ore 9 in Duomo si svolgerà la celebrazione dell'ordinazione dei diaconi candidati al presbiterato e dei diaconi permanenti ordinazione conferita dal cardinale Tettamanzi mentre domenica 3 ottobre saranno ben due i momenti che vedranno il cardinale in Duomo alle ore 11 la celebrazione per il 150esimo anniversario della Polizia Municipale di Milano alle 15 una celebrazione festosissima per i migranti delle diocesi lombarde che si trovano in pellegrinaggio appunto a Milano in questi giorni un convegno di grandissima importanza fra Milano e Varese parla dell'Evangeliario e anche noi approfondiremo questo tema la settimana avventura con tante immagini e interviste intanto però vogliamo offrirvi un viaggio virtuale nella bellezza e scoprire gli evangeliari che sono alla Biblioteca Ambrosiana e sono tra i più antichi della nostra diocesi scopriamo tutti insieme con Monsignor Marco Navoni in Ambrosiana tra i tanti tesori custodito anche l'Evangeliario della Cattedrale chiamiamolo così, di che cosa si tratta? Sì, si tratta di un importante codice liturgico che veniva usato appunto nella Cattedrale di Milano potremmo definirlo l'attuale Duomo nel IX secolo e rappresenta praticamente lo stadio della liturgia romana così come veniva celebrata nell'epoca carolingia e in modo particolare ci trasmette tutte le pericopi cioè i brani dei Vangeli che lungo l'anno liturgico venivano proclamati nella domenica nelle principali feste durante la celebrazione eucaristica In questo momento invece stiamo vedendo un secondo Evangeliario riccamente illustrato di che cosa si tratta? Si tratta di un Evangeliario di dimensioni più piccole di quello precedente però più importante dal punto di vista artistico perché oltre a conservarci il testo latino dei quattro Evangeli il testo è anche illustrato con delle bellissime miniature di stile bizantineggiante quindi che si rifanno all'area greca dell'Italia meridionale e queste miniature rappresentano i quattro evangelisti ma di questo secondo Evangeliario vorrei mettere in evidenza anche un aspetto particolarmente simbolico alcune pagine della pergamena sono trattate con la porpora e la scrittura è fatta con l'inchiostro d'oro sono i due simboli, la porpora e l'oro, della regalità la regalità che riveste appunto la parola di Dio trasmessaci dal Vangelo Ancora per noi una segnalazione che ci pare di particolare interesse e che riguarda la città di Milano perché venerdì 1 ottobre alle 20.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio sarà consegnata al Cardinale Tettamanzi la carta di comunione per la missione appunto della zona pastorale prima quella di Milano città continua quindi la consegna delle carte di comunione della missione l'8 ottobre l'ultima appunto sarà la zona settima siamo nel momento anche del convegno annuale delle filodrammatiche della diocesi tantissimi volontari che vi lavorano gli amanti del teatro e quindi noi scompriamo un po' i temi di questo convegno animatissimo perché questa scelta? è venuta fuori un anno fa per caso durante il convegno sulla comicità che abbiamo fatto l'anno scorso e la parte erotica diciamo ha avuto il suo spazio da questo quasi è derivato il tema che proponiamo quest'anno cioè l'eros questo argomento inflazionato vilipeso frequentato e che altro e noi abbiamo detto ma perché non trarne fuori invece i valori che sono immensi ha a che fare con l'inizio della vita dal porno all'eros dalle donne oggetto alle donne soggetto un pensiero su questa questione un po' difficile mi viene in mente quando l'ho chiesto a Claudio Bernardi il professore dell'università cattolica sul teatro e gli ho detto ma Claudio che cosa vuoi dire? io voglio dire esattamente quello che c'è ovvero un'indagine su quello che è la donna oggi e invece la valorizzazione della medesima le donne oggetto le donne soggetto c'è una differenza immensa quindi tutto da scoprire anche nei prossimi mesi questo tema da elaborare da sviluppare ma io penso di sì noi del Gattel abbiamo avuto diciamo così questo mini coraggio e tutto quello che sta avvenendo adesso a Gazzada è certamente stimolante intrigante mi pare che l'hai è anche un po' pruriginoso però quando tu ascolti un professor Gianni Bacchelli come l'ho sentito io parlare per esempio del Cantico dei Cantici tu resti affascinata e allora ecco che si trasfigura il tema dell'eros oppure il Fabrizio Fiaschini che è il presidente nazionale della Federgate e quindi anche nostro parlare della quantità e qualità dell'eros nel teatro Rimaniamo in tema di cultura ma naturalmente con approfondimenti molto diversi con un incontro perché mercoledì 29 settembre alle ore 18 presso la fondazione Ambrosianeum in via delle ore 3 a Milano si svolge appunto un confronto tra Valerio Nida che è presidente merito della Corte Costituzionale e Monsignor Giovanni Giavini che è biblista il titolo dalla legge di Mosè alla Costituzione italiana bene con questo siamo giunti alla conclusione della prima parte del nostro programma torneremo insieme con tanti servizi e immagini quindi due minuti di pubblicità restate con noi a Tapprocchissimo ben ritrovati iniziamo questa seconda parte della nostra chiesa nella città con un momento forte per proprio Milano perché si è svolto un incontro con Monsignor Giancarlo Bregantini che non è solo il vescovo di Campobasso ma anche il delegato della CEI alla vita sociale e al lavoro ne sono emersi temi davvero significativi per la vita dei cattolici nella società noi c'eravamo interviene in un convegno a molte centinaia di chilometri dalla sua diocesi Campobasso Monsignor Giancarlo Bregantini e riempi in un attimo il grande auditorium di San Carlo al Corso nell'incontro promosso dall'azione cattolica ambrosiana introduce infatti la presidente diocesana Soncini e dal servizio per la vita sociale fuori la settimana della moda con il suo rumore metropolitano dentro la sala il silenzio di chi ascolta attento una testimonianza che non si dimentica sull'impegno dei cattolici nel sociale a partire dal documento per un paese solidale chiesa italiana e mezzogiorno la chiesa italiana dice e ridice quella frase detta vent'anni fa il paese non crescerà se non insieme questo è il nodo ed è attorno a questa frase che si gioca oggi la dimensione della crescita comune e in questo documento la parola del crescere insieme è diventato tecnicamente una bellissima parola che si chiama reciprocità e la questione meridionale come diceva Sturzo è questione nazionale ne nasce un'alleanza reciproca dove insieme i problemi si affrontano e insieme i nemici si osteggiano e non manca un pensiero per l'oggi nel centocinquantesimo dell'unità d'Italia che pur tra tante difficoltà e disperanza tanto più significativo per il lungo impegno che lo ha visto protagonista scomodo di una chiesa coraggiosa in Calabria credo che in questo momento il lavoro da fare al nord nei pastori nei preti nelle realtà ecclesiali nelle scuole nelle realtà di di formazione sia soprattutto quello di lavorare attorno alla parola sentinella e i giovani sentono perché il rammarico della morte di Angelo Vassallo nel sindaco di Pollica la grande presenza di giovani attorno a questa bara ha dimostrato che i giovani quando trovano un ideale ce lo sanno adeguatamente difendere poi naturalmente lo sguardo al domani più vicino e impegnativo per chi come Monsignor Bregantini è anche delegato della chiesa italiana alla pastorale sociale del lavoro un pensiero sulla settimana sociale dei cattolici italiani a Reggio Calabria anche questo un bel segno dal 14 al 17 di ottobre è un momento preziosissimo sia perché il documento è ben fatto sia perché sa declinare il bene comune in precise forme sia perché sa stimolare tutti noi ce l'auguriamo in modo adeguato anche dialettico forte ci aspettiamo una settimana sociale vivacissima anche politicamente riferimento perché bisogna scuotere questo paese per cui veramente è un evento providenziale in questo momento torniamo insieme con la segnalazione di una serie di incontri che si svolgeranno ogni sabato dalle ore 18 alle 19.15 in ottobre e novembre presso la chiesa di San Gottardo in Corte in via Pecorari a Milano una lettura ecumenica della parola dal titolo complessivo c'è ancora tempo proposta dalle chiese cristiane di Milano restiamo per così dire in tema di parola di Dio con un ciclo di conferenze molto attrattive ci sembra per questo ne parliamo presso l'abbazia di Seregno e noi ne abbiamo parlato proprio con l'abate vediamo la nostra proposta è quella di aprire a tutti credenti e non credenti l'accesso alla Bibbia abbiamo cercato di studiare un certo numero di percorsi quattro percorsi in modo particolare aprire la Bibbia entrare nella Bibbia meditare la Bibbia e studiare la Bibbia per permettere ciascuno di scegliere quello che corrisponde di più alla sua esigenza e cercare di fare questo percorso insieme per scoprire meglio questo patrimonio universale dell'umanità e non solo di coloro che credono il primo è un percorso d'insieme un'introduzione alla lettura dell'Antico Testamento che va dalla fede di Abramo all'Apocalisse il secondo entrare nella Bibbia sarà concentrato soprattutto su Giovanni la prima lettera ai Corinzi Luca e poi un po' un'introduzione al profetismo meditare la Bibbia invece si concentrerà su due aspetti il profetismo la profezia nell'Antico Testamento e poi quattro corde per la preghiera quindi c'è un carattere un pochino più spirituale e infine studiare la Bibbia sarà un percorso un pochino più approfondito nel quale ci si concentrerà sul libro di Giona e sul Cantico dei Cantici anche un incontro di presentazione con un relatore prestigioso certo dunque il 30 settembre proprio per poter presentare questi corsi abbiamo avuto abbiamo l'onore di avere Monsignor Bruno Maggioni con noi che farà una conferenza sul Padre Nostro in maniera tale da così già dare un primo gusto di che cosa rappresenta la scrittura e nello stesso tempo nella stessa serata ci sarà una presentazione di tutti i corsi dei relatori e poi la possibilità già di iscriversi prima della fine della serata inizio dunque? inizio dunque dei corsi l'8 ottobre e facciamo in modo che i corsi si concludano prima dell'inizio della quaresima perché si sa che in quaresima tutti sono molto occupati in modo tale da permettere a tutti una partecipazione fruttuosa in questo contesto vi voglio ricordare la Bibbia di San Paolo che è uscita proprio in questi giorni 1300 pagine anche di più che approfondiscono naturalmente la parola di Dio ma anche molte altre cose sono in questo prezioso volume che ricorda i 50 anni di edizione della Bibbia per tutti del fondatore di San Paolo il beato Giacomo Alberione e vogliamo continuare in questo percorso attraverso le sacre scritture e la riflessione e la meditazione proponendovi un momento ormai diventato una tradizione nel cuore di Milano nel cuore della Movida di Milano una tenda del silenzio vediamo è ormai una tradizione per la città la tenda del silenzio promossa presso le colonne di San Lorenzo dal forum delle religioni di Milano e dalla comunità ecclesiale dei frati di Sant'Angelo ogni anno viene montata per due giorni come una simbolica vela tenda di sapore biblico sotto cui ripararsi nella meditazione e nella preghiera che invita a riflettere credenti e non credenti fedeli di diverse religioni questo evento chiamiamolo evento di rubare qualche momento alla mia vita di tutti i giorni per meditare su tutto quello che ci circonda su rapporti rapporti con gli altri delle altre religioni e quest'anno il tema è stato particolarmente attuale mettendo al centro il rispetto per l'ambiente per il creato con il titolo terra giardino da abitare da condividere in riferimento al messaggio del santo padre per la giornata della pace 2010 perché il silenzio di questa tenda come si legge in uno dei tanti pensieri di chi ha sostato in meditazione si è riempito da tutte le cose veramente importanti della vita come appunto l'ambiente che ci circonda la terra il fuoco la luce e il respiro più alto dell'uomo il suo desiderio di dio la preghiera la pace è tutto raccontato per immagini sempre alle colonne di San Lorenzo dalla bella mostra fotografica contigua cammini tra cielo e terra che testimoniano come le fedi possono contribuire alla salvaguardia del creato indicando nuovi stili di vita una cula diversa per la meraviglia che è attorno a noi ad ogni latitudine fermate nei suggestivi scatti dei quattro fotografi Cesare Gerolimetto Enzo dalla Pellegrina Marino Cattelan e Gianni Vecchiato che è anche curatore della rassegna promossa dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano bene ancora per noi un appuntamento questa volta sul territorio a Oreno di Vimercate in provincia Monza Brianza presso la Chiesa di San Francesco nella Piazza Omonima si svolgerà infatti una lettura scenica del messaggio del Papa per la giornata della pace 2010 con musica e testi di Elder Camera il modo per saperne di più lo state vedendo in questo momento siamo giunti ora alla parola di Dio in questa quarta domenica dopo il martirio di San Giovanni il precursore poi il commento che è affidato da questa settimana al vicario generale della nostra diocesi Sua Eccellenza Monsignor Carlo Maria Redaelli lettura del Vangelo secondo Giovanni in quel tempo il Signore Gesù disse io sono il pane vivo disceso dal cielo se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro come può costruidarci la sua carne da mangiare Gesù disse loro in verità in verità io vi dico se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue non avete in voi la vita chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui come il padre che alla vita ha mandato me e io vivo per il padre così anche colui che mangia me vivrà per me questo è il pane disceso dal cielo non è come quello che mangiarono i padri e morirono chi mangia questo pane vivrà in eterno Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao perché il mangiare è così importante anche dal punto di vista religioso perché è così gran rilievo l'immagine per esempio del banchetto ma certo perché il mangiare indica il nutrimento e il nutrimento è essenziale per vivere e allora viene spontaneo dire è essenziale per vivere dal punto di vista fisico e quindi è essenziale per vivere anche dal punto di vista spirituale però c'è la possibilità di mangiare nutriendosi da soli uno può prendere anche oggi magari correndo una fetta di pane piuttosto che un pezzo di formaggio un pezzo di salame oppure confezionarsi una pizza surgerata e scaldarla al forno velocemente ma quello è solo il nutrirsi invece il vero mangiare è mangiare insieme agli altri è il banchetto dove il nutrimento non è soltanto quello fisico ma è il nutrimento della relazione dell'entrare in rapporto con la persona con le altre persone e quindi crescere in questo senso allora l'immagine che ci offre il Signore Gesù dicendo che Lui è il nostro cibo Lui è il nostro cibo ma all'interno di un banchetto all'interno della celebrazione eucaristica dove ci nutriamo di Lui dal punto di vista spirituale ma non in maniera individualistica ci nutriamo di Lui ma entrando in comunione gli uni con gli altri e cercando di crescere in questa comunione allora l'importante è nutrirsi spiritualmente del Signore ma sapendo che nutrirci di Lui vuol dire entrare in comunione con Lui ed entrare in comunione gli uni con gli altri avete visto delle immagini di San Carlo nell'ambientazione del commento a questo Vangelo e si tratta della cappella che si trova negli appartamenti privati dell'Arcivescovo ma ne parleremo ancora nelle prossime puntate rimaniamo però con un'ultima segnalazione in ambito borromaico carolino perché venerdì 8 ottobre dalle 9.15 della mattina presso la Curia Arcivescovile e poi in diversi luoghi carolini appunto riguardanti San Carlo di Milano si svolgerà una giornata per giornalisti cattolici lombardi le iscrizioni sono aperte e si concluderanno sabato 2 ottobre tutti gli approfondimenti li trovate su www.chiesadimilano.it bene adesso è il momento della conclusione è davvero tutto grazie di averci seguito io vi do appuntamento come sempre con la chiesa nella città la settimana prossima restate con noi su Tele 9 e Tele 9 a 2 canale interamente dedicato agli approfondimenti dei temi religiosi arrivederci